Giulia, eccoci! Eccoci qui! Qual è la differenza tra il primo e il secondo GFVIP? Ah, bella domanda! Allora, beh, sicuramente questo GFVIP è stato diverso perché innanzitutto sono entrata con una maggiore consapevolezza o meglio, pensavo di avere anche più controllo in realtà io stessa stupita di quanto mi sono fatta coinvolgere emotivamente sotto tutti i punti di vista ero entrata ripromettendomi categoricamente questa volta sarà un percorso individuale e ancora una volta il cuore ha avuto sopravvento quindi io sono una sicuramente tutto cuore sono molto emotiva e poi anche dal punto di vista umano mi ero ripromessa quest'anno cerca di distinguere maggiormente il gioco rispetto ai rapporti umani in sé per sé invece io non sono riuscita mentre il primo è stato magari una Giulia un po' più impulsiva anche forse più immatura e mi hanno potuto vedere solo da un certo punto di vista questa qua si è visto un po' tutto però non mi pento di nulla insomma sono contenta e a proposito dei rapporti con chi sei rimasta in amicizia? bisogna coltivarli i rapporti quindi io penso che sono nati all'interno della casa poi bisogna avere anche la volontà e la voglia di farli crescere quindi bene o male mi sono sentita con molte persone della casa ho avuto modo anche di vedere persone come Diane, come Sonia e io penso che è una cosa nel lungo termine che si vedrà quindi si vedranno poi come si evolvono i rapporti però da parte mia c'è stato un gesto distensivo verso tutti perché poi è chiusa la gabbia del grande fratello inizia la vita reale e quindi poi lì insomma è la prova del nove senti ma a proposito di verità Giulia è cambiata no? sì com'è cambiata la tua vita? allora di base in realtà è pressoché uguale nel senso che io a tratti mi rivedo ancora sempre in quei panni della ragazza di Piacenza che tu hai conosciuto tanti anni fa quindi i rapporti, le amicizie bene o male sono rimasti gli stessi salvo magari ovviamente un po' di pulizia perché man mano crescendo facciamo un po' di pulizia intorno a noi vediamo anche quali sono magari le persone che condividono maggiormente i nostri principi i nostri valori poi purtroppo ti vedi di meno e quindi questo è sempre una cosa che mi dispiace però c'è tanta voglia di crescere ogni giorno per me è una sfida personale per migliorarmi cercando di informarmi, di studiare, di apprendere ogni mattina mi alzo, guardo il TG, guardo le notizie quindi cerco anche di dare un messaggio diverso rispetto al giro del passato quindi non solo Giulia influencer ma anche una Giulia che vuole diventare donna sono contenta perché man mano tanti piccoli appunto sogni si stanno realizzando come anche condurre un programmino tutto mio come Salotto Salemi a proposito ci racconti di questa avventura come è nata e come si è evoluta allora Salotto Salemi nasce in maniera amatoriale la scorsa quarantena quindi un po' diciamo tutti siamo inventati conduttori ed eravamo i padroni del nostro canale e abbiamo iniziato a farle dirette quindi io ogni giorno intervistavo persone, personaggi diversi da tutti i punti di vista e sotto diciamo tutti gli aspetti quindi non solo magari i miei simili ma anche cercavo di apprendere informazioni da persone che facevano anche un lavoro differente rispetto al mio poi da lì mentre ero nella casa insomma anche il mio team, il mio management ha fatto sì che quando uscissi abbiamo messo veramente in piedi il programma in sé per sé quindi un Salotto Total Pink comunque degli sponsor che hanno voluto investire che credono magari in me e nel mio linguaggio quindi sia da parte make up che da parte food e poi gli ospiti quindi questa prima edizione era una edizione al femminile dove io truccavo le ragazze però c'era all'interno la chiacchiera e l'intervista quindi un modo anche per sperimentare la conduzione e per vedere anche la padronanza di appunto di un Salotto tutto mio e sono molto felice adesso manca il bilancio com'è positivo sono molto contenta perché calcolando che è partita in maniera amatoriale un anno fa vederla realizzata e poi messa in onda comunque anche su Mediaset Play quindi anche un editore che crede in te e che ha voglia di investire su di te e farti crescere è una cosa positiva quindi ovviamente l'aspettativa è quella sempre di migliorarsi quindi mai diciamo avvallarsi in questa zona di comfort ma cercare sempre di apprendere, crescere, migliorarsi avere anche nuovi stimoli e quindi io sono sempre alla ricerca costante di stimoli quindi sicuramente è una Giulia che sta diventando più matura a proposito di stimoli nuovi hai creato anche una linea di costumi chi l'avrebbe mai detto perché insomma io ho passato anche momenti di up and down con il mio corpo quindi sai bene come tu lo sai c'eri non mi sentivo a mio agio ero infelice comunque era una ragazza che purtroppo non riusciva a trovare gratificazione sotto diversi punti di vista e quindi la testa e di conseguenza il mio corpo ne risentiva ad oggi mi sento finalmente confident con il mio corpo e a maggior ragione ho voluto creare una linea di costumi che andasse bene un po' per tutte le donne io non rappresento la taglia campionario o il corpo da top model e sono costumi creati apposta sulla mia fisicità quindi di una ragazza normale che possa andare bene per tutte quante e ci possano far sentire a nostro agio al mare valorizzarci quindi valorizzare i nostri pregi poi ci sono anche tante soluzioni per appunto le diverse taglie quindi ho voluto fare dalla S alla XL quindi per me è fondamentale sono molto contenta perché il feedback è stato positivo e tante ragazze si sentono a loro agio mettono anche le loro foto dicono magari che in passato si vergognavano e ora vanno a fiere della loro fisicità perché dobbiamo tutti quanti noi imparare ad apprezzarci e accettarci maggiormente senti stai guardando mamma Fariba all'isola? sì mamma la seguo e sono anche nata in studio insomma per sostenerla e difenderla paradossalmente ma anche per me stessa mi battevo così tanto perché io capisco che mamma è pesante lo sappiamo insomma mamma è logorroica insomma alcune cose le ho prese da lei però quello che mi ha fatto un po' star male è vedere a volte il trattamento disparitare nei suoi confronti quindi l'isolamento piuttosto che il menefreghismo attratti il disprezzo quindi io non sono una polemica di base però è normale che mi sono sentita coinvolta quando mi hanno chiesto vuoi venire insomma a difendere tua mamma ho detto sì perché comunque io so quando sei in quei contesti isolati dal mondo quanto può aiutare una parola di conforto da fuori quindi sicuramente mamma dovrebbe ascoltare di più è una cosa che lei stessa mi disse quando io ero nella casa e quindi io sono tornata per dirgliela a lei e spero che possa finalmente una volta per tutte liberarsi dal suo passato travagliato dalla sofferenza da tutti quegli avvenimenti che l'hanno fatta star male l'hanno fatta indurire vorrei che tornasse in Italia con uno spirito diverso come dice lei insomma aperta nei confronti dell'universo e mi auguro che l'universo le faccia conoscere anche lei l'amore lei sicuramente è una forza della natura quindi io ho bussato la prova del fuoco sono rimasta impressionata 5 minuti e mezzo la mamma veramente dimostra che non c'è età perché se tu sei forte qua con la tua testa puoi ottenere tutto quello che vuoi ed è un bellissimo messaggio ad esempio per tutte le ragazze della sua età quindi sono molto fiera di lei ma il sogno di Giulia invece qual è? il mio sogno vabbè tu lo sai è condurre un programma tutto mio insomma a parte come sto facendo appunto con il mio salotto se lei mi però proprio riuscirà a crescere come conduttrice ma dove ti vedresti adesso che sei anche cresciuta? ma sono aperta a proposte quindi no nel senso io non è che mi vedo specificatamente mi faccio sperimentare mi faccio anche buttarmi e cimentarmi senti da sempre vivi in simbiosi con i social dove ci lavori anche tantissimo hai una fan base che è cresciuta negli anni e che ti difende tantissimo ma c'è anche qualche hater come ti comporti? come reagisci? anche più di un hater allora innanzitutto ho capito che non sono solo io quindi il problema in passato era che quando una persona riceve delle critiche ti fossilizzi perché dici ma perché ce l'hanno con me? perché non mi capiscono? e quindi tu in tutti i modi vuoi cercare di farti capire però arrivi a un certo punto dove comprendi che sono persone che non sono interessate a capirti ma sono persone che si svegliano la mattina con lo scopo di ferirti mentre un tempo ci rimanevo male e soffrivo per questa cosa ad oggi ho imparato a farmi scivolare maggiormente di dosso le critiche negative gratuite accetto quelle costruttive amo le critiche costruttive tu stesso lo sai quindi penso che le critiche costruttive servono per migliorarsi quelle gratuite servono solo per buttarti giù e abbatterti e mi concentro sull'amore come hai detto tu ad oggi ho una grandissima fan base di persone che si sono affezionate anche a me e questa è una cosa meravigliosa perché vuol dire che la gente empatizza con te e ti comprende e quindi voglio guardare magari maggiormente chi mi ama piuttosto che chi mi odia e penso che è quello che dovremmo fare un po' tutti quanti poi è una lotta infinita insomma io stessa anche io mi sono attivata perché purtroppo a volte ricevi commenti che superano il limite e quindi lì secondo me è anche giusto andare alla pulizia postale insomma piuttosto che rivolgersi per vie legali come sto facendo anche io con chi oltrepassa quella soglia però per il resto mi concentro sull'amore senti la nuova Giulia sorride molto merito del lavoro ma secondo me anche e soprattutto merito di Pierpaolo è così? allora sì io sono una persona che sono una stacanovista e questo si sa però sicuramente l'amore che era la presenza che più mi mancava era il tassello che mi mancava per essere una donna completa perché ok gli amici ok il lavoro però quando non hai qualcuno con cui condividere insomma quegli istanti di felicità hai sempre un po' quel senso di vuoto quando magari torni a casa la sera finalmente non torno più sola a casa è una persona che Pierpaolo mi gratifica mi fa sentire donna mi sta facendo anche crescere e sta tirando fuori anche la parte migliore di me quindi quella anche più matura ed è bello perché stiamo crescendo insieme e ci facciamo del bene non c'è categoricamente competizione siamo uno il fan dell'altro ci sosteniamo in tutto e per tutto ci consigliamo dove non arriva lui arrivo io e viceversa quindi finalmente spero di aver trovato non avresti mai detto che lo avresti guardato con occhi diversi perché tu lo conoscevi già lo conoscevo, l'avevo conosciuto sei, sette anni fa a differenza dell'immagine che può sembrare anche a tratti magari di femme fatale io non sono la femme fatale sono per sempre un'eterna Peter Pan in questo senso e forse in contesti come il grande fratello perché mi sembra anche a volte particolare è strano doversi giustificare perché uno incontra l'amore cioè non importa il contesto che è una critica che ti hanno anche fatto sì, importa trovarlo forse proprio in contesti come appunto il GF dove sei senza telefoni senza condizionamenti dall'esterno e sei obbligato ad ascoltare e io lo ammetto, il mio limite in passato ero troppo distratta sono troppo presa magari da me dai miei amici, dalle mie cose dall'iPhone, da Instagram che mi perdo il mondo intorno invece in un contesto del genere tu sei obbligato ad ascoltare ed è una cosa meravigliosa che ho imparato a fare e quindi ad apprezzare maggiormente le persone quindi se il destino ha voluto, se l'universo ha voluto ricacciarmi in quella casa quindi la chiamata di Alfonso dall'alto che è strano però in un qualche modo ha trovato il suo perché e quindi non mi pento di nulla anzi e a un certo punto e chi se ne frega ce lo vogliamo mettere delle critiche cioè la mia felicità vale molto di più e quindi se questo era il costo da pagare ben venga ma quando sei con lui lo spegni il telefono? guarda posso dire molto cioè lo veramente il telefono lo spengo perché comunque dobbiamo essere sempre reperibili però lo accantono quindi per me questo è un grande traguardo ultima domanda ma pensi di poter lavorare con Pierpaolo di fare delle collaborazioni insieme? guarda mi piacerebbe molto io penso che da un lato sicuramente è giusto separare i due percorsi perché io comunque auspico a fare la conduttrice televisiva piuttosto che anche la radio mi piacerebbe provare e sperimentare e lui invece adesso si sta buttando nel campo musicale però perché no nella casa lo dicevamo sempre un programma in radio sarebbe molto divertente perché poi lui sa fare le imitazioni di tutti da Alessandro Borghese a Maria De Filippi a Maurizio Costanzo a Cannavacciuolo a Conte veramente di tutti e quindi sarebbe super divertente perché poi l'avevamo anche già provata in casa ogni domenica facevamo la radio e so che era andata anche molto bene quindi quell'esperienza mi piacerebbe e anche a lui grazie a tutti grazie a tutti